Arbitri senza pace, anche Iroldi fermato dopo Inter-Genua. Qua dobbiamo andare veramente un passo per volta, andando ad analizzare tutto quello che è successo in questa 27esima giornata di campionato. Io direi, per dovere di cronaca, partiamo dall'episodio più recente, quindi vale a dire, ieri Inter-Genua. Paolo, parto da te. Sì, Iroldi ha chiuso questo weekend accumulando un altro errore grossolano, cioè l'intervento di Frendrup su Barella, si vede che prende il pallone. Però la follia è questa, che lui viene richiamato al VAR, va al VAR e conferma la sua decisione. Però dalle immagini, da alcune immagini, si vede che entra proprio sul pallone. Dalle immagini da dietro? Da dietro lo vedevi bene alle spalle dei giocatori? Sì, il VAR non li fa vedere. Sì, il VAR non li fa vedere. Beh, io non penso che non avessero quelle immagini. No, infatti l'ha trasmessa in diretta in questo momento. E ma tu le hai viste? No, ma le ho viste dopo. Sì, sì. Ma quelle che lui ha visto? Quelle che lui ha visto. No, quelle lì. Lui ha visto tre immagini, non quella da dietro. Vabbè, comunque, voglio dire, e questa è una follia, no? Era quella per lui dall'Ostiva. Lui segue agli errori di Marchetti in Torino-Lazio, che a sua volta segue quelli di Di Belli-Lazio-Milan, no? Ma io dico questo. Secondo me, adesso c'è questo attacco agli arbitri, questa caccia all'arbitro, eccetera. Sarà pur vero che magari non sta passando una generazione particolarmente illuminata, no? Di arbitri e c'è un ricambio generazionale. Però io sono quasi certo che purtroppo gli arbitri, ma in tutti i campionati, perché tu vedi anche i casini che ha fatto Gilmanzano in Spagna, no? Col gol di Bellingham annullato, fischiato, finito la partita, no? Ah, beh, lì è stata fatta una roba proprio pazzesca. Secondo me, e Gilmanzano è uno espertissimo, secondo me questi continui cambi di regole che fa il board degli arbitri per rendere il calcio più spettacolare, secondo me rischia di renderlo poco credibile e solo rissoso. Ma perché gli arbitri, Vittoria? No, ma perché gli arbitri, ci sono continui cambiamenti sul regolamento, sulle interpretazioni. Poi il VAR, che ci hanno raccontato come la risoluzione di tutti i problemi, se tu lo togli dalla sua oggettività, cioè gol non gol, fuori gioco, sul resto è tutto soggettivo, è interpretabile, perché... Io ti faccio un esempio, perché non posso non farti un esempio avendo qui l'uomo in studio della storia. No, ma ti dico... No, da te no, Pa. No, no, ma in senso positivo, io ti dico questo, tu puoi vedere mille volte l'intervento di Mark Giuliano su Ronaldo, questa è la storia, no? Scusa, quello vero è... Giuliano quello vero e Ronaldo quello vero. Giuliano è uno solo e Ronaldo quello vero. No, ma ti faccio un esempio, tu puoi vedere... Allora, l'occhio dal vivo vede una cosa, al VAR con un'altra velocità ne vedi un'altra. Quindi, secondo me, il VAR non sta... È vero che statisticamente ti dicono ha ridotto di molto gli errori. Sì, ma è un po' la statistica quando dicono, ah, non c'è la povertà, c'è un tot per tutti, ma poi lo dividi ed è sempre meno, no? Cioè, a livello... Hai capito? Cioè, secondo me, gli arbitri sono completamente confusi da queste cose. Ed è ovvio che poi in un paese dove diventa narrazione, no? La polemica, noi ci facciamo le trasmissioni, i dirigenti fanno le loro battaglie, è veramente un gran casino. Tanto è vero che, come dicevi tu, dopo domani c'è questa riunione straordinaria, questo incontro a Coverciano con gli arbitri per fare il punto, ecco. Sì, per fare un po' di chiarezza e per completezza, no? O perlomeno per riagganciarmi a quanto stesse dicendo Paolo Bargigia, Mark, riparto da te, effettivamente forse diventa anche difficile, mi metto nei panni dei calciatori, no? Riuscire... Perché in realtà c'è chi va e spiega le regole ogni volta, però forse questa cosa non viene percepita così bene. Cioè, qual è il problema? Perché di base, se ci sono così tanti errori e così tante polemiche, beh, qualche buco ci deve essere, no? Ci sono troppe regole e troppe interpretazioni. La paura non è dei calciatori, la paura è degli arbitri, perché gli arbitri sono stati delegittimizzati in maniera clamorosa, non hanno più personalità, non hanno più, hanno paura a qualsiasi fischio di andare, di subire conseguenze dall'associazione arbitri. vedi degli errori che non sono d'arbitro, io mi ricordo... Becca, ti ricordi De Lio? Ricordate l'arbitro De Lio? Gli arbitri storici che non avevamo mai nessuno. I giocatori si permettevano di avvicinarsi all'arbitro perché rispettavano l'arbitro. Avevano paura dell'arbitro. C'è una sorta di solennità della figura dell'arbitro. L'arbitro era veramente solenne, era quello che comandava in campo, nessun giocatore si azzardava nemmeno di alzare le mani. C'era qualcuno che era anche a due metri e ti avvicinavi. E non diamo Niva. Tu sei più giovane di me, però posso dirti che Lo Bello addirittura spingeva il giocatore. Nichelotti spingeva un rispetto. Beh, Agnolin, Agnolin, Di Sabettega, Di Sabettega, ti faccio un cuore così. C'era dialogo, anche mi ricordo Bertini che era... Di Arezzo, se non sbaglio. C'erano arbitri con personalità, che non avevano bisogno nemmeno di spiegare. Ho detto bene, con personalità. Forse perché questi arbitri smettevano di arbitrare quando io iniziavo a giocare. non c'era bisogno nemmeno che ti spiegavano, perché il cacciatore capiva che l'arbitro era super partes. Anche se adesso Marco le telecamere, i micromasi... ma c'era un rispetto, ma c'era talmente un rispetto, ma chi è che faceva polemica o diceva, però l'arbitro era l'ultimo problema. Ma c'era molto dialogo prima, No, ma sai cosa? Adesso non c'è, perché adesso si manda subito... Ma non c'era bisogno di essere dialogo, perché era talmente un rispetto. Allora Becca, prima Paolo Bargigia faceva notare questa cosa. Airoldi viene chiamato dal VAR e tendenzialmente se il VAR ti chiama è perché forse tu hai preso una decisione sbagliata. Io parto dalle prime... Io sono cresciuto nel calcio, la prima roba iniziavano i difensori in scivolata ha preso la palla, quindi il problema. Quando prendi la palla non l'avrebbero mai fischiato. Poi cammini facendo magari vedi sette, otto partite c'è chi prende la palla e va sull'uomo fischiano il rigore. Un'altra cosa in più Becca, se tu avevi l'occasione come ha avuto Barrella in questo caso l'occasione che tu calci in porta e anche se subisci fallo tu hai avuto l'occasione per calciare in porta quindi non viene fischiato il fallo perché la tua occasione l'hai sprecata. Poi andiamo, ecco e l'osservazione quindi anche i giocatori stessi non sanno come interpretare perché prima mi hanno detto prendo la palla quindi vai in scivolata. Poi prendi l'avversario e si andava avanti. Adesso partite diverse giudizi diversi. Poi la cosa anche dei fuorigioco il naso, la mano non c'è più e no perché riea regolamento i pensori con le mani dietro le spalle già sono in difficoltà che non possono fare un entrare non riescono neanche più a saltare non possono saltare non possono diciamo che normali contatti di gioco prima erano normali contatti di gioco perché adesso sono tutti perché stiamo attenti a dire maschi cioè sanzionati ma non è più nemmeno si ti di contatto dai diciamo così traduciamolo così ma io ho fatto l'attaccata i difensori avevano la psicosi che come fai a entrare in scivolata se io sono bravo senza fare xyz senza usare le mani perché come fai a stare fai la corsa dei sacchi 5 anni fa c'era stata una c'era stata una sorta di Rosetti aveva un po' chiamato tutti gli arbitri dicendo guardate dobbiamo adottare una certa linea con il riguardo ai falli di mano in area di rigore non possiamo sempre dire che è rigore perché se vi ricordate quando stavano eccedendo qualche anno fa ed è stato anche posto un limite però poi da allora non è che si è andato in questa direzione è andato sempre peggio il concetto analizziamo poi anche quanto è successo in questa 27esima giornata beh dai la CEMILA a parte che Eroldi ieri ha fatto un altro piccolo errore perché l'ammunizione a Lautaro non c'era l'ammunizione per simulazione lui si è rialzato si è rialzato subito infatti si era subito alzato però secondo me veramente sono completamente confusi dai continui ad ogni stagione cambiano le regole e poi il VAR ti spersonalizza perché tu anche a livello inconscio cioè tu dici ah ma tanto se sbaglio c'è il VAR se poi tanto non prendi in considerazione quanto ti dice il VAR ma perché dopo lì entriamo nel campo della soggettività come vede lui un'immagine io la stessa la posso interpretare in modo diverso il contatto hai capito? poi se addirittura non ha visto quelle immagini perché non gli sono state fornite quello è un altro discorso però purtroppo siccome siamo invasi dalla tecnologia secondo me da sta roba qua non torneremo più indietro però è delirante perché veramente cioè tu togli orsato togli orsato io ne aggiungo due o tre altri sì no ma orsato ha una personalità tale per cui difficilmente va al VAR quando sceglie no hai capito? cioè ma gli altri sono dei così dei soldatini imbambolati che non si esprimono tu vedi più i guardalini alzare? poco perché tanto ma quando lo fanno poi diventa confusionale la situazione no no cioè io li capisco io ho solidarietà vittorio io ho solidarietà per gli arbitri perché purtroppo si trovano a vivere un periodo allucinante allucinante poi lasciamo perdere come ci raccontano e come c'è sempre stato che c'è sempre un conflitto tra la parte tecnica dentro l'aia e la parte politica adesso già si dice che Rocchi probabilmente diventerà mollerà il ruolo di designatore diventerà presidente cioè queste cose possono incidere ma in un'epoca di smarrimento tu poi trovi casi più o meno grossi come questo weekend sì gli arbitri effettivamente in media in questo momento sono in crisi come qualità però guida maresca doveri e orzato fanno un po' chiaro di tutto rispetto c'è da dire e comunque sono scomparsi i guardaline scomparso anche il quarto uomo vedi all'olimpico l'altro giorno lo sappiamo bene è comparso completamente qualunque aspetto perché si aspetta il VAR si attende il VAR e non c'è un regolamento di gestione del VAR non esiste ancora Rocchi è stato chiarissimo e qui mi daccio l'altra sera quando ha detto senza mezzi termini che la situazione non va proprio non è proprio da gestire bisogna cambiare molte cose nella sede arbitrale l'ha letto nella smissione televisiva credo sulla sua buona fede spero che voglia decodificare il VAR ma infatti guardiamo se giovedì effettivamente ci si cioè ci sarà una svolta o meno e vorrei proporvi questo tipo di giochino per così dire allora mi riferisco a Intergenua Milan-Lazio e Torino-Fiorentina ci sono stati questi tre macroerrori no? due rigori e l'espulsione doppio giallo per Ricci Ammonito Samuele non sapeva no no con il mio ragazzo lo sappiamo che è il grande obiettivo nello stesso tempo sappiamo che dobbiamo ancora pedalare perché mancano 11 partite due mesi abbondanti di campionato e chiaramente fa piacere per le 300 panchine ho avuto la fortuna di avere prima la Lazio e adesso all'Inter grandissime società alle spalle grandissimi giocatori e due tefoserie che ci hanno sempre accompagnato in queste tantissime partite sapevamo insomma è la quinta partita in pochi giorni il Genova è un'ottima squadra con giocatori di qualità e ci sono stati i primi 15-20 minuti dove abbiamo non abbiamo avuto il solito approccio però probabilmente per merito del Genova poi una volta trovati i due gol il grande neo è stato quello di non fare il terzo che probabilmente avrebbe chiuso la partita poi c'è stato l'Euro goal di Vasquez che ha riaperto una partita e lì mi prendo insomma la squadra che insieme con i cambi ha sofferto abbiamo portato a casa una partita per noi molto molto importante allora praticamente ragazzi io riparto da Bargigia si è vero mancano 11 partite poi non è questo il pezzo ma in un altro punto della conferenza lui fa il paragone con la propria Inter e la Red Bull di Verstappen beh sono importanti Paolo no vabbè quando lui dice una Red Bull però dice anche ad inizio stagione non l'eravamo ma lui non solo sul campo ha stradominato Allegri andando a più 15 a 11 giornate dalla fine ricordiamo che se Allegri non fa quelle scelte la Juve vince con l'Empoli 37 giorni fa va potenzialmente a più 4 poi l'Inter ha due partite da recuperare per dirti ma vince in zaghi con Allegri è anche il duello verbale perché Allegri ve lo ricordate no? a più riprese stuzzicava l'Inter sul discorso guardie ladri sul discorso poi cos'è che aveva usato i cavalli con i paraocchi e addirittura aspetta Sinner il discorso Sinner di Ocovich e invece lì l'Inter è stata molto muta in zaghi non ha mai replicato anzi in zaghi ha solo detto io so di parlare del mio operato e della mia Inter no no certo no ma da quel punto di vista lì diaretti che sul campo un trionfo su tutta la linea poi i numeri sono impressionanti perché comunque l'Inter è a più 15 11 giornate dalla fine ha fatto 69 gol credo sia il club in Europa tra i top campionati professionisti che ha fatto più gol cioè con una distribuzione delle reti pazzesche perché ha fatto 36 gol gli attaccanti 13 difensori i restanti centrocampisti ovviamente 16 giocatori in gol e con l'Altaro over 20 24 quanto ha segnato 25 non lo so a memoria onestamente non mi ricordo cioè quindi sono numeri ma prestazioni importanti quindi tu capisci che vanno lette le prestazioni è vero ieri ci sono stati gli errori di Eiroldi col Genoa però cioè comunque il Genoa ha giocato anche una buona partita caspita però però cioè l'Inter è una squadra di una solidità di una chiarezza di gioco che poi ieri ha fatto una partita un po' sorgnona a volte spinge di più ieri ha aspettato poi però quando ti fa due strappi capito ti inchioda ti fa due gol eccetera quindi niente cioè Inzaghi purtroppo secondo me vedi anche qui come è distribuita quando becca dice voi giornalisti qui hai ragione la stampa molte volte quando hai finito l'editoriale arrivo io la stampa molte volte no ma io lo faccio perché so che sei stanco ti vedo lì piegato quindi ti faccio prendere No sta seguendo la partita no ti seguo con l'attenzione anche perché mi è comparso una sua fotografia su Instagram vestito da calzolari no come vestito no lì è quando giocava nella Nazionale Barbuti c'è una Nazionale italiana Barbuti è vero prima che appendessi farla vedere la foto davvero c'è una Nazionale italiana Barbuti che è la prima nazionale italiana fa un sacco di beneficenza ma eri giovane hai spesso 22 anni no no fa tantissime iniziative io ho giocato una volta poi mi sono reso conto che forse era meglio cioè ho tenuto la barba ma le scarpe le ho ma tu sei nato con la barba anche immagino tuo figlio mi sai che ha giocato mio figlio gioca gioca ha giocato vabbè comunque vabbè l'Inter l'Inter comunque volevo dire volevo dire che Inzaghi cioè per cominciare a meritarsi un po' di credito da parte della stampa degli opinionisti veramente ha dovuto fare cose straordinarie rispetto a certi allenatori che vivono di rendita a livello di pubblico opinione no? risposto sul campo direi perché comunque Inzaghi cioè ha fatto vedere che anche se gli mancano giocatori come Shalanoglu e c'è Aslani al suo posto quindi anche con le seconde linee tra l'altro ieri è stato il primo gol di Aslani in nero azzurro è fondamentale questo ragazzo lo sta plasmando lo sta aiutando a integrarsi benissimo cioè anche il fatto che Turam per esempio sia stato cioè sicuramente Meppe Marotta ha i suoi meriti perché prendere determinati giocatori e far sì che poi riescano a giocare un certo tipo di calcio Marotta c'è sempre creduto a Zani era qualcun altro che non ci credeva l'hanno aspettato il gruppo l'ha fatto crescere esatto esatto però ci vuole anche l'allenatore questo Mark sicuramente ce lo può dire bene che è riuscito a far sì e a creare sicuramente una certa coesione di gruppo a far emergere le qualità di tutti i giocatori in modo pure che le seconde linee quando entrano anche se entrano in corso d'opera sono pronti danno il massimo ma sono seconde linee di qualità per esempio io lo frequento l'ambiente interesse lo vedo non mi ricordo l'anno che c'è una coesione di tutti i giocatori per un percorso da andare a fare così tutti uniti dici sì verso l'unica meta che è lo scudetto si vede verso l'unica meta verso l'unica meta che è lo scudetto no la seconda stella poi se vai avanti in Champions League non credo che si tiri perché anche adesso infatti il campo non ragioni cerchi di fare le macchie anche lui grande esperienza non riesci a calcolare io a volte dibattiamo però c'è la partita cioè non riesci a differenziare partire il campionato e sempre dare il massimo comunque perché te in quell'ottica o sbaglio poi dopo lì c'è la prestazione buona meno buona però aggiungo un'altra cosa che cos'è che volevo dire vedi poi dici io faccio l'editoriale tu non ti ricordi cosa devi dire c'è una cosa secondo me riferita ai tre giocatori che sono dati via stiamo parlando di tre giocatori che Dzeko Chapeau come professionalità Gol Brozole fino a due anni fa prima che Cialanoglu Cialanoglu e giocasse in mezzo e non è che era innamorato diciamo che non stai rimpiangendo Lukaku no nessuno dei tre e anzi do ancora più meriti all'allenatore della società che ha fatto una scelta privilegiando magari il gruppo e con tutto rispetto di quei grandi giocatori lì la squadra è rimasta competitiva quindi Chapeau Mark con la vittoria di ieri l'Inter sale a più 15 dalla Juventus più 16 dal Milan insomma numeri da record qua la nostra regione prontamente ci propone la classifica 72 no punti e tra l'altro vi do un dato interessante l'anno scorso l'Inter terminò il campionato con questi punti cioè per dire no manca 11 giornate a 11 giornate dal termine ragazzi quindi già questo dato con il Napoli che era partito in volata a parte è stato detto quasi tutto bisogna dare meriti sicuramente alla società ma lo staff tecnico ha fatto un lavoro incredibile perché nonostante in questo momento io se fossi qualsiasi squadra europea avrei paura di affrontare l'Inter o con un girone trovarmi l'Inter se fossi il Magister City avrei paura di affrontare l'Inter se fossi il Bayern avrei paura di affrontare l'Inter non è che una volta che era la squadra italiana a temere i sorteggi in questo momento cercherebbero tutti di evitarla l'Inter e poi a parte che ha una rosa completissima ma la forza di questo allenatore di questo staff tecnico che riesce a dare minutaggio a tutti sì cioè non è nessuno escluso perché vabbè matematicamente cambia gli esterni tutte le partite e ha degli esterni molto forti quindi quelli li cambia sempre forse l'ossatura che riesce che cerca di tenere quella difensiva giustamente quando può non manca qualcuno a centrocampo hai tre insostituibili ha un grande frattesi che lo tiene in panchina però diciamo che riesce anche a gestirlo gestirlo frattesi è entrato in una squadra che in qualsiasi altra squadra abbia giocato titolare frattesi ma comunque è lì è parte del progetto sa che questo è un primo anno in cui deve apprendere da chi effettivamente sono i migliori il campionato e davanti Lautaro Turam stanno facendo veramente qualcosa di incredibile è la coppia migliore che ha creato di più secondi sapete chi troviamo dalla gestione DDR di Valerio Cacco DDR come ti piace io su Inzaghi ho un tema volevo coinvolgere un po' a tutti devo sentire anche Paolo poi sono anche in l'Inter e volevo sentire anche Becca tu che frequentemente è l'Inter ma secondo te è matematico è così scontato che Simone Inzaghi accetti pur dettando le sue condizioni di rinnovare con l'Inter perché ovviamente Marotta si è già espresso sulla volontà di rinnovare perché lui è il contratto che scade nel 2025 Simone Inzaghi proprio nell'ultima conferenza ha detto io sto bene sono appagato eccetera però sai che in Inghilterra una fonte dai dimmi la fonte no no in Inghilterra a te piace la fonte a me non uso la fonte non ti do la soddisfazione perché non ho fonti in questo caso sto dicendo che in Inghilterra più di uno ha scritto quindi qui non è la fonte te le vai a leggere metti su Google Simone Inzaghi Inghilterra sono dei clavi inglesi che stanno pensando ad Inzaghi ok però se ti faccio le domande serie e me la butto in cacciara a te ho detto cosa si dice all'Inter tu che sei anche amico del suo procuratore ok te la circostanza è ancora di più tu sei amico del procuratore ti giuro sul Milan sei amico del procuratore ti giuro sul Milan poi soprattutto vai becca te che poi devi cercare la pubblicità ma prima Paolo vinci no voglio dire secondo te rinnova facile o no o l'Inter secondo me rinnova facile sì però nel calcio di oggi certezze non ci sono perché lui se il primo periodo all'Inter non è stata una passeggiata per Simone appunto tu pensi che ecco bravo adesso che ha ottenuto tutto no anche fino a sta primavera fino a sta primavera quindi credo che si trovi bene è stimato ha acquisito anche un certo feeling con tutto il popolo nero azzurro quindi quelle cose lì c'è gente che è andata ma fatti una domanda ha costruito una squadra ma io l'ho fatta a te la domanda me la devo fare da sempre ha costruito una squadra in tre anni ci mi diceva messo anche del tempo no no ma guarda che tu hai detto una cosa giusta cioè secondo me lui probabilmente rinnoverà ma farà anche pesare perché lui ha anche detto io non mi dimentico di nulla farà anche pesare il fatto come era stato trattato fino alla scorsa primavera eh e le critiche che riceveva anche dall'interno da Marotte ah tu dici che gli è rimasto attaccare all'orecchio no beh secondo me ma poi Giovanni Branchini è un signor procuratore non ha Branchini non ha Branchini non ha Branchini ha Tinti a Tinti non ha Branchini ha Tinti ah non l'avevi capito lo scriviamo allora Paolo concludo con te questa Inter può fare bene anche in Champions visto che prima Marc mi ha fornito l'assist perfetto non ci dimentichiamo che nella prossima giornata si cambierà il Bologna ma poi la prossima i tredici ti giochi la Champions vanno a Meritabellitano poi l'altra con l'Atletico Madrid quindi sarà durissima sì l'Inter può fare bene anche in Champions non c'è dubbio perché è una squadra e mi ripaccio a quanto diceva poco fa Marc qualsiasi squadra europea anche la più quotata in Manchester City secondo me non vorrebbe incontrarla sì perché in due partite i valori possono uscire l'Inter in questo momento di valori in attacco quanto a Simone Inzaghi ha meriti grossissimi ma non escludo sono certo che rinnoverà ma non escludo che abbia un po' il dente avvelenato il dente avvelenato perché soltanto dieci mesi fa di questi tempi quando ancora non aveva raggiunto la semifinale e poi la finale di Champions qualcuno l'aveva messo in discussione e si parlava di un suo esonero per le tredici sconfitte fatte quindi in questo momento rinnoverà forse rinnoverà anche spalmando due o tre anni a somme più alte portando via le sirene inglesi perché ci sono però un pizzico di sale sulla coda ce lo metto a fine stagione ci incontreremo e parleremo perché la Juve vuole avere la certezza di cosa conquisterà posto Champions mondiale per club con quel budget si presenteranno da Allegri e i temi saranno due il tema rinnovo il tema rinnovo quindi con un ingaggio da ridurre e da spalmare io credo che la Juve possa offrire da Allegri un biennale un 1 più 1 ancora riabbassare di quanto no questo non lo so direi una cosa sbagliata però la Juve sta cercando di abbassare già da quest'estate il monte ingaggi e non vedo perché non lo debba fare con l'allenatore che comunque eredita un ingaggio che gli aveva fatto Andrea Agnelli quindi però prima di sta cosa diranno ad Allegri noi sul mercato probabilmente con la nostra disponibilità finanziaria con quello che abbiamo conquistato non so andremo a prendere una mezzala andremo a prendere copmainers due mezzali copmainers amarsi potremmo vendere così ti sta bene? sì o no? se gli sta bene poi c'è la discussione sul tipo di rinnovo e sulle condizioni ma non è detto che la cosa stia bene ad Allegri è quello il punto nevralogico no perché la Juve se io dicessi che la Juve ha deciso di mandarvi Allegri è una cosa che non mi risulta sarebbe un errore che la Juve come tutti i club sia attenta all'evoluzione intorno agli allenatori ai migliori allenatori per esempio secondo me segnali alla gente di Tiago Motta li ha mandati non solo la Juve ma anche per essere per cautelarsi di fronte a queste evenienze di mancato accordo con Allegri poi è chiaro che intorno al suo rinnovo alla sua permanenza c'è un po' di tensione un po' di nervosismo la Juve non gli ha ancora proposto nulla quindi parla al suo agente a domanda parla Allegri che dice no non sono io il problema della Juve però Branchini dice per me resta però con la proprietà può succedere di tutto qualcosa c'è allora qui se vogliamo divertirci come abbiamo fatto col Milan a dare delle percentuali io dico Allegri secondo me oggi è 50% non vi dare però i possibili sostituti anche se un po' Tiago Motta me l'hai già spoilerato ma adesso arriviamo vorrei un'analisi da parte di ovviamente Mark visto che no ma Mark sa tutto sa tutto Mark ma tu lo sai tutto ma dici lei che ponti che ormai è il nostro transenter di puntata no a parte le vattene il mondo Juve il mondo Juve se non lo conosce Mark esattamente allora Mark il fatto che è vero la società in questo momento non ha detto Allegri e alla sua ultima stagione anzi Giuntoli ha sempre in un qualche modo anche voluto ribadire come Allegri sia ancora il mister bianconero però se tu non trovi un accordo a un anno dalla scadenza e comunque c'è questo sentore questo retrogusto come prima ci diceva Paolo Bargigia del fatto che probabilmente gli proporrai di spalmarsi l'ingaggio andando a ridurselo e non solo probabilmente non prenderai nel mercato a giugno gli uomini che mister Allegri chiede e allora forse è quasi come dire grazie arrivederci mister e guarda per quello che ne so io sembra che può essere vero assolutamente la situazione è molto più semplice molto più semplice perché Allegri ha un'importanza e come allenatore e come uomo società come non ha mai avuto forse nessun allenatore in Italia perché la società è stata è stata è stata cambiata l'intera società l'intera società e prima dell'arrivo di Giuntoli il vero uomo di calcio era è Allegri e quindi è stato affidato a lui il compito di tra parentesi di gestire la Juventus fortunatamente poi hanno preso un po' di classe come Giuntoli e quindi dall'anno prossimo sarà ulteriormente migliorata la società e Allegri non ne fa né un punto di 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 parlare di contratto se non parlano di contratto o anche se gli manca un anno come giustamente dice Paolo alla Juve soprattutto con il rapporto che ha questa Juve con Allegri non è non è la la cosa primaria e giustamente se si dicono e ne sono sicuro che si siederanno a fine anno perché giustamente vogliamo vedere dove la Juve si ha conquistato la Champions League se ci sono i soldi della Champions League e perché scusami per te in questo momento la Champions non è ancora sigillata? non è ma è sigillata da nessuno numericamente no numericamente no e soprattutto con le squadre dietro che spingono la Juve è un po' rallentato la speranza di tutti che la Juve arrivi di tutti tutti i non-Giuventini forse no ma poi anche il mondiale per club non è non è non è niente e lì sono altri soldi però la società ha tantissima fiducia in Allegri come allenatore e come e come uomo della società e in questo Allegri sta facendo sta facendo un grosso lavoro perché dopo due anni di difficoltà come che ha avuto la Juventus così grandi io non so quanti allenatori avessero retto e tenuto e ottenuto quello che forse ha tenuto Allegri poi stiamo parlando di livello di risultati non stiamo parlando sicuramente di livello di gioco perché naturalmente tutti storciamo la bocca quando non vediamo giocare bene la Juve però saremo in questo momento l'allenatore l'allenatore del Juve Allegri sarà Allegri quello te lo posso assicurare in questo momento non ci sono dubbi su Allegri tu hai certezze che lui sarà ancora allenatore e che accetti e che accetti di rinnovare che accetti di rinnovare anche lui ha accettato di essere uomo Juve ma guarda che il 2021 era tutto fatto di Real Madrid come ha detto Branchini e lui ha fatto una scelta di cuore ha scelto la Juve lui secondo me sta facendo comunque ha parlato di ragioni familiari anche Branchini quindi di cuore io ste robe non ci credo comunque ama tanto stare alla Juve sta facendo la scelta di cuore dove uno che guadagna 9 milioni netti all'anno è una scelta di cuore no è tanto non è molto però comunque che cuore anche l'allenatore del Real Madrid mica è una cosa di poco conto sì ma noi parliamo dell'attualità secondo me lui sta facendo un lavoro pazzesco come dice Marta d'altro canto con i giovani la maggior parte della Juve ci sono alcuni esperti ma dove ragazzi la maggior parte sono della next generation ma scusami quindi tu consideri anche la rosa dell'Inter della Juve c'è un divario enorme ma io non capisco e secondo me Allegri sta facendo un bel lavoro ma dove allora la Juve è inguardabile quando gioca è inguardabile ma come lasciamo stare il gioco ma come migliori giocatori voglio un giudice super parte sveccalo ma come migliori giocatori se non giochi a calcio tu vai a chiedere a Chiesa vai a chiedere a Chiesa se è contento di lavorare con Allegri comunque chiedere a Chiesa ma io sto parlando dei giovani della next generation ma i giovani i giovani ragazzi Blauvic cioè Blauvic finalmente ma l'ha rigenerato ma si è rigenerato da solo il calcio di Allegri è l'antitesi per far giocare bene un attaccante non è bello il calcio di Allegri però secondo me sui giorni tu dici Chiesa non è contento di lavorare di non lavorare con Allegri chiesa no però quello ci può stare lo sai benissimo però ragazzi anche Allegri si è trovato con Chiesa senza un anno e con un giocatore che l'hanno continuato a far giocare anche quando era impresentabile ma scusate ma perché usiamo solo i giovani quando serve per giustificare uno ha usato i giovani perché per numero ma scusate ma scusa ma nella Juve ma tu voglio sentire la tua anche tu vuoi mettere Seananoglu Mkhitaryan e tutti gli altri parla della Juve che giocatori ci sono ma in Champions scusa allora ragazzi però calma ma in Champions giocano i 2006 2005 adesso qua stiamo a menarla con 2003 un giovane ma in Italia con l'estero e poi c'era becca al telefono poi li saprei così con una fonte no ci penso io stai tranquillo Max no c'è Bargisio stavamo discutendo che secondo me ti vede bene lui dove lo vede bene? c'ho Allegri eh ma dove lo vede bene sulla panchina della Juve ma io lo vedo bene per la Juve lontano dalla panchina della Juve sai che ho un'antica simpatia da tempo scusato nel 2011 con Allegri avete c'è una soggezione in Italia verso delle figure allucinanti allora Simone Inzaghi viene presa a schiaffi ma no Simone Inzaghi viene presa a schiaffi Allegri e Murigno sono intoccabili Allegri e Murigno sono intoccabili tra 30 anni io stavo facendo stavo cercando di parlare ho detto che ho una certa simpatia nei confronti di Massimiliare ho una certa stima ma io non guardo se uno mi ha simpatico io faccio un discorso d'opinionista questo è un inciso iniziale per chiudere il discorso dico che Allegri secondo me resterà alla Juventus perché la Juventus vuole fare un progetto con lui e rinnoverà entro l'estate in due o tre anni ancora quindi siete tutti maghi tutti sicuri tutti sicuri quindi accetterà di abbassarsi l'ingaggio Paolo secondo me sì incredibile ok cioè tutto sai tutto Paolo secondo me dipende sai quanti anni quanto spazio cioè non lo sa Giuntoli oggi lo sai tu non lo sa Mike non lo sa Giuntoli lo sai tu scusami scusami io la fotte ma la Juve facciamo solo concludere ma io voglio dire ma la Juve che nelle ultime sei partite ha fatto cinque punti ma cosa state ad avere delle certezze sul lavoro di Allegri cinque punti nelle ultime sei partite ma tu mi vuoi dire che la rossa della Juve e la rossa dell'Inter ma la rossa della Juve secondo te non è l'altezza per vincere con l'Empoli l'Udinese del Verona se quanti giocatori sono che potrebbero giocare se sono nell'Inter tre vuoi che ti dica allora siccome vengo provocato siccome vengo provocato te ne dico sette guarda attenzione allora scusate Mark voglio il tuo conforto Cesni è una pippa vero? Cesni non è una pippa ok poi vado avanti non mi interrompete Demirale Bremer sono due pippe vero? non sono due pippe c'è già tre Demirale ok ah Bremer no Demirale e Bremer l'Inter gioca con Acerbi che ha 40 anni ne ha 35 Demirale non c'è scusa Demirale Danilo e Bremer eh no ma cioè vengo provocato ma questi sono quelli che io porterei dalla Juve allora scelta aspetta no Mark Mark seguimi Mark ti prego ah beh senti Monge Luciano lo sa appena sentito direttore Cesni ok poi vado avanti Vittoria Danilo Bremmer Pura Locatelli è campione d'Europa è un europeo uno dei migliori poi Rabiot si sono già cinque no sono quattro no Cesni Danilo Bremer no per me c'è Locatelli Rabiot ok Chiesa no Vlaovic ah no Chiesa è scarso no vabbè Chiesa non va bene ho detto che è scasso io preferivo il pari non ha centrocampo posso dire una cosa vabbè eh vabbè grazie vabbè ma allora Marica vale tutto cioè a te non piace Chiesa ma come valore assoluto Chiesa è un giocatore forte no scusate vabbè devi consigliare anche gli infortuni è forte ma per me per me e quelli che possono potrebbero giocare nell'Inter questa è Inter sono Danilo Bremer Rabiot e Cesni ma io ti dico una cosa al contrario se tu fai allenare Lautaro Martinez da Allegri che ha tre occasioni ogni quattro partite quello che penso se tu porti i giocatori allora ma c'è la prova contraria se tu porti l'Inter se tu porti l'Inter da Allegri l'Inter non va avanti Cesni ah Cesni no ma se tu porti l'Inter in Tiera da Allegri cambi le maglie li fa allenare da Allegri l'Inter non è dov'è in classifica adesso Lautaro ha fatto la metà dei gol ma quando io sono la prima a incensare a Simone Inzaghi perché Simone l'abbiamo avuto alla Lazio ha fatto cose bellissime ma qual è il discorso l'ho detto pure prima ogni volta lo dico ogni volta lo dico il Bologna ha una rosa e un Montingaggi è maturato tantissimo il Bologna ha una rosa e un Montingaggi che costa quattro volte meno della Juve ha giocatori giovani come quelli della Juve eppure il Bologna è lì scusa intervengo io il mio amico Paolo Paolo abbiamo a che fare con una signora io capisco che ti pronunciamo però io sono abituato a stare nel mondo degli uomini non posso venire provocato sentendo dire cioè è l'unico caso al mondo di un allenatore che fa cinque punti in sei partite e uno ne parla bene ma poi cinque punti in sei partite giocate con Frosinone Empoli e Udinese il Frosinone ha vinto il 95esimo poi Inter e un Napoli che era derelitto fino a ieri oh ragazzi ma non mi fate esplodere posso dire una cosa non c'è nulla questione sul fatto che il gioco di Allegri ma questo l'ha detto ma pure i risultati ma cinque punti in sei partite ma che giovani io vi difenderò sempre ma i lavori sui giovani il lavori sui giovani chi è? nonge messo dentro e poi tolto dopo un quarto d'ora si stava parlando di Juventus e beh la Juventus ha perso contro il Napoli domenica sera quindi l'altro ieri anche anche a causa di tante occasioni non concretizzate da Vlaovic che chiede scusa chiede scusa abbiamo perso per colpa mia dice Mark ha perso una brutta partita strana strana perché la Juve forse ha creato come non mai ma lo dicevamo all'inizio quando parlavamo del Napoli Napoli ha giocato bene a tratti molto bene però ha concesso molto e la Juve è di solito molto cinica non ha approfittato stranamente anche perché l'avverbio di Vlaovic ultimamente era ottima ecco secondo te dove sono da ricercare le cause per cui la Juve alla fine sebbene abbia concretizzato tantissimo forse tante persone hanno detto abbiamo visto la Juve giocare così bene da tante giornate mancava questa voglia questo creare occasioni che però si sono concretizzate perché secondo te dove ha sbagliato la Juventus la Juventus non ha sbagliato a non fare gol la sfortuna solo sfortuna solo merito in Napoli quando sbagli i gol prendi magari il palo una volta ma se davanti alla porta sbagli sbagli le altre tre occasioni di Vlaovic più danni i minuti recupero quelli sono sbagli quindi la fortuna ce ne c'entra poco premesso che la Juve comunque è seconda in classifica assolutamente a inizio del campionato non so quanti l'avrebbero messo in questa posizione non è vero Marco io non sono d'accordo fino a un mese fa ha dilapidato sicuramente ha dilapidato in un mese tantissimi punti perché avremmo parlato avremmo sannato giustissimo scusa Paolo tu sei convinto sono secondi in classifica ma con un altro allenatore tu sei convinto che la Juve potesse fare meglio io lo so magari può giocare diversamente però io guardo il risultato tu devi è stato anche prima però anche se sì anche lì lì ha caricato noi perché io ho fatto 15 giorni non dormivo più di notte perché mi ha messo in testa dalla pressione lo scontro diretto e sai c'è vinto la Bologna c'è vinto la Juve quella partita lì quando quando poteva tenere la corsa con l'Empoli Allegri si è inventato Ildiz il giocatore più in forma del momento in panca per far giocare Milik poi ovvio non è colpa sua se Milik si fa buttare fuori poi anche l'inferiorità numerica va avanti 1-0 fa un cambio perché lui proprio giocare con una punta in più sta male cioè vuoi questa cosa cioè nel 2024 ancora un allenatore che gioca solo 3-5-2 quando hai Chiesa Ildiz e Vlaovic infatti con Napoli li ha messi per un quarto d'ora e Chiesa ha fatto gol da esterno con l'Empoli togli Emiretti mette UEA tieni in panca Ildiz che mette Tardi perché se tu e l'Empoli ti guadagnava campo cioè io vedo delle scelte da allenatore superato cioè superato cioè lasciate perdere il punto più e il punto meno cioè è un allenatore che non ha coraggio cioè non ha non ha visione cioè gioca sempre uguale sempre lo stesso modulo con l'Empoli sei in inferiorità togli Miretti perché metti UEA che continua a giocare 3-5-1 metti Ildiz e fai 3-4-1-1 e Vlaovic intanto tiene l'Empoli un po' più preoccupato e dai un sostegno a Vlaovic poi anche sta cosa che la Juve ha buttato via la partita domenica perché Vlaovic ha sbagliato gol ma voglio dire Osimena ha sbagliato il rigore la difesa della Juve ha dormito sulla respinta perché si è fatta fregare dalla rincorsa di Rospadore dalla rincorsa peraltro se tu vedi la difesa la difesa era fuori dall'aria aspettando no giustamente dove devi stare ma Rospadore ha preso il tempo correndo da fuori adesso si usa l'hanno fatto anche con l'Inter cioè sembra che la Juve abbia perso per colpa di Vlaovic che comunque no non abbiamo detto questo no 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 ma in generale non voi no con le scuse di Vlaovic che arrivano dai social ma perché lui stesso ha fatto delle dichiarazioni ma è onesto è stato anche molto onesto non è nel caso se hai tre tre occasioni di sbagli non è che devi sottolineare cioè secondo me come immobile allora stasera con la Lazio immobile io non l'avevo visto il palo era una bella giocata che ha fatto con Napoli colpo sotto però non è che fai tre occasioni e fai quattro gol quello è appunto appunto capisco quello che dici te e mi sta bene perché fai un'analisi della partita mi piacerebbe vedere la Juve a livello tattico magari un modo diverso però nei confronti di Allegri ho visto un accanimento che secondo me può piacere non piacere però sembra che negli ultimi anni si è diventato l'ultimo io becca ti dico che secondo me invece gode di fin troppo buona stampa Allegri fai il paragone tra come viene trattato veniva trattato Simone Inzaghi lo scorso anno in primavera e il sostegno che ha Allegri comunque guarda che i giornalisti che contano o tra quelli che contano tutti stanno difendendo Allegri ma comunque Allegri che sono quelli che prima difendevano Mourinho è arrivato in finale di Champions è vero pure Simone una volta però Paolo Paolo no 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 ma qui ancora l'errore che fate giudicate gli allenatori dal curriculum io sto parlando dell'attualità ma allora facciamo allenare tra pattoni ma ti dimentichi dell'esperienza stai dimenticando l'anno passato quello che ha detto lui facciamo giocare Beccalossi 10 minuti dai facciamo giocare Beccalossi ma ragazzi ma il curriculum il curriculum non lo intacca nessuno anche Mourinho c'ha il curriculum peccato che nelle ultime stagioni abbia solo subito esoneri è un caso singolare non è un caso singolare prendere in considerazione e comparare con Mourinho ma cosa ha fatto Allegri da quando è tornato alla Juve cosa ha fatto cosa ha fatto vabbè ma secondo me la Juve la Juve necessita di innesti importanti affinché possa superare quel gap che c'è con l'Inter ma non è l'Inter e non l'Inter la Juve deve giocare a calcio può farlo con i giocatori che ha la Juve la Juve ragazzi stiamo parlando di una Juve senza Pogba che ritorna in Pogba stiamo parlando l'anno scorso stiamo parlando l'anno scorso tornando a come diceva Paolo Allegri è stato falcidiato è stato distrutto ed è rimasto lì con la società a fianco questa stampa a favore non è che ci avesse questa stampa a favore se vuoi ti dico quali sono i giornalisti che lo sostengono sì però ragazzi hanno detto di tutto ma lo dico anche io sono stato uno dei primi critici nei confronti di Allegri perché sono juventino sono nato juventino e quindi anche io vorrei vedere sempre la Juve giocare i tifosi della Juve però non lo soppartano più i tifosi della Juve per primo non lo soppartano più stai parlando con un tifoso della Juve no vabbè il tifoso meglio però io devo essere anche coerente con quello che quello che studi sicuramente ha dei grandi giocatori ma ragazzi dividiamo dividiamo un attimo la stagione della Juve quest'anno facciamo quest'anno qua non parliamo di Poubano fagioli fuori 2024 quello che è successo ha iniziato il Milan ha avuto 30 infortuni non 2 30 al Milan parliamo della Juve però adesso la Juve ha iniziato la stagione non benissimo la Juve ha iniziato la stagione non benissimo però a un certo punto si sono messi a posto ha iniziato a fare i gol solo giocava solo faceva gol solo con i difensori e gli attaccati non facevano gol vero? e le si è tirata su ma erano partite che ti convince non ha mai avuto la squadra completamente al top della condizione ha cambiato preparatori sono arrivati hanno cercato di cambiare perché hanno cercato di migliorare non è che non cercano di migliorare come tutte le società che poi tutte le ciambelle non escono col buco però ragazzi stiamo parlando di una squadra che ha fallito le ultime partite perché ha fallito ma lo dico sinceramente ha fallito però in un contesto generale è avanti rispetto a quello che pensavamo e che pensavo anche io all'inizio della stagione perché se leviamo le ultime a questo punto tu non pensavi che alla 27esima giornata di campionato la Juve potesse arrivare a seconda e quindi in posto Champions la Juve è obbligata sempre a sempre a vincere perché viene però vedendo quello sto dicendo quello che penso io non ha avuto mai la Juve al top in tutti i reparti quello è un dato ma anche quando ce l'hanno è in momento in cui hai l'attacco che Vlaucci ritorna a far gol ritorna tra il feeling e comincia ad avere problemi in difesa ma dai ma dai problemi in difesa ragazzi ma per vincere ripeto ma sì ma scusa l'Inter fa quanti gol hanno fatto l'intensore nelle ultime quattro partite scusa scusa ma voi vedete giocare l'Inter che sviluppo di gioco che fa e non gioco che fa Allegri non è che i difensori non si possono paragonare le due squadre una gioca a calcio e l'altra no stiamo paragonando l'Inter che è superiore a tutti lei parla dei gol di difesa dell'Inter caspita ma l'Inter ma l'Inter ma grazie ma la discussione non è l'Inter ma grazie al giocatore non che ha Superman in difesa che fa i gol grazie all'allenatore il ragionamento ragazzi scusate facciamolo terminare per dovere di competenza l'Inter che sia prima in classifica meritatamente che sta giocando da Dio non mette nessuno in discussione meritatamente sta facendo sono stato il primo a dirlo che io qualsiasi squadra europea io non vorrei affrontare l'Inter in questo momento la Juve che sia tutto perfetto non è così però in questo momento bisogna tenere bo portare e riportare la Juve in Cemio perché i soldi della Cemio sono importantissimi perché la Juve ha dei deficit ha delle problematiche e sta facendo di tutto la via la via che hanno scelto è quella di pensare al risultato ma anche prima del gioco perché alla Juve devi portare il risultato poi come lo sta ottenendo non piace quasi a nessuno o a nessuno però il primo obiettivo della Juve che si ripete secondo i classifici è quella di riportare la Champions League a Torino e stiamo